Siete qui accanto alla forestale per assistere a questi controlli. Che cosa temete da questo grano che arriva dall'estero? Noi dal 9 di febbraio, dove abbiamo fatto il primo presidio qui al porto di Bari, abbiamo chiesto maggiori controlli. Temiamo che i prodotti che vengono importati dall'estero non abbiano la qualità necessaria per il consumo umano. Per questo abbiamo chiesto maggiori controlli. Sappiamo che in Canada i parametri del grano duro, i parametri del DON, che è un acronimo delle micotossine, sono parametri che sono sotto la soglia dei mille e qui in Europa è accettato grano con la soglia dei 1750. Abbiamo il forte dubbio che il prodotto che entra è un prodotto che non abbia una qualità particolare. Abbiamo chiesto più controlli e oggi verifichiamo con la forestale che finalmente forestale fanno i controlli e qui non si sono mai fatti fuori dal porto. Il grano italiano quest'anno è di una qualità incredibile e quindi noi temiamo le miscele. Per questo vogliamo che ci sia l'etichettatura sulla pasta che dia l'esatta tracciabilità di dove arriva il grano in cui quella pasta è fatta. Questo potrà essere l'unica garanzia per i consumatori in questo paese. Alcuni camion che sono stati verificati portano grano che alla vista è grano che non è di grande qualità. Poi aspetteremo le analisi ma è quello che si vede che fa venire forti dubbi.